Ida Platano ha lanciato un indizio molto forte su Instagram che tutti i fan e non dell'ex dama non hanno potuto non notare. Un indizio che ha subito fatto pensare che Ida e Alessandro siano prossimi al matrimonio. La parrucchiera siciliana infatti ha prima pubblicato una storia dove si mostra innamoratissima insieme al suo Alessandro con una dedica dolcissima. Mi lascia addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe. E poi ha postato l'immagine di quelle che sembrano due fedi o perlomeno due fedine di fidanzamento con tanto di ti sposerò perché di Eros ramazzotti di sottofondo. Un oggetto e una canzone che sembra quasi impossibile non associare alla voglia dei due di dirsi sì. Grazie a tutti.